Oh ragazzi, ho un nuovo mezzo. Il motivo? Boh. Oh ragazzi, ho un nuovo mezzo. Il motivo? Boh. Oh ragazzi, ho un nuovo mezzo. Il motivo? Boh. Fa per amito. Dio bello. Ritornerà più forte di prima. Statenne. Porca dio cane. Statenne certi. Scooter vlog come ai vecchi tempi. A parte essere in riserva marcia, il che è casa. La cosa divertente è che l'ho pagato 100 euro. Devo smagrirlo un pochino perché è obeso. E io pago. E dai. Dobbiamo fare un check della temperatura. Che è l'ultima volta ho scaldato di brutto. Ed è buona cazzo, è buona, è buona. Che bello. Allora, siccome per un po' di tempo non avrò modo di fare contenuti, penso che questo sarà un gran videotappabuchio. Ho in mente un progetto abbastanza interessante. Questo è lo spot perfetto. Siccome ho la moto nuova, mi sarebbe piaciuto fare un nuovo inizio con un po' più di qualità. Quando? Non lo so. So solamente che i video diventeranno da video pieni di meme. A video più normali, un po' più cinematici, insomma. Tutti gli altri video, quelli vecchi, quindi verranno archiviati. Messi solo su link. E basta. Direi che è il momento di andare verso casa. Così vi faccio sentire un po' sto K come gira, no? Troppo potente il zai, puta. Mamma mia, mamma mia.